Non si placca la polemica a Comiso sulla mancata trattazione del PRG nell'ultima seduta consigliare. Sulla vicenda prende posizione il consigliere Pasquale Puglisi della lista La Torre, che tira in ballo il testo unico degli enti locali, che recita al Com 5 i consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. Si tratta, dice Puglisi, di rispetto delle norme, opportunità e correttezza politica. I provvedimenti sottoposti all'esame del Consiglio per l'adozione, infatti, non sono né urgenti né improrogabili, sono tutti vincolanti per l'ustrio decenni. È corretto, si domanda Puglisi, che al Fano alla fine del suo mandato vincoli le future amministrazioni su decisioni soggettive che, tra l'altro, avrebbero potuto mettere in discussione con calma nei cinque anni passati. La legge lo ritiene inopportuna e detta limiti in merito, personalmente, aggiunge il consigliere, ritengo che sia scorretto. A maggioranza il Consiglio Comunale ha deliberato di soprassedere all'adozione degli atti per evitare, aggiunge in osservanza della citata norma, di imporre alle future amministrazioni vincoli che potrebbero condizionare le scelte amministrative.